Percy. Quando cominciarono la discesa, Percy si concentrò sulle sfide più immediate. Mantenere l'equilibrio, evitare di smuovere sassi per non avvertire le impuse della loro presenza e, naturalmente, assicurarsi di non morire cadendo insieme ad Annabeth. Più o meno metà percorso, lei disse «Ci fermiamo un attimo, ok? Riprendiamo fiato». Vedendo che Annabeth si reggeva così male sulle gambe, Percy si maledisse per non avere proposto una pausa prima. Si sedettero su una sporgenza accanto a una cascata di fiamme e lui le mise un braccio intorno alle spalle. Annabeth si appoggiò, tremando dallo sfinimento. Percy non era in condizioni molto migliori. Si sentiva lo stomaco ridotto alle dimensioni di una nocciolina. Se si fossero imbattuti nella carcassa di un altro mostro, temeva di avventarcisi sopra, tale quale a un'impusa. Almeno però aveva Annabeth, si disse. Avrebbero trovato il modo di uscire dal tartaro. Dovevano trovarlo. Non aveva una grande opinione delle parche e delle profezie, ma di una cosa era certo. Lui e Annabeth erano fatti per stare insieme. Non erano sopravvissuti a tanto solo per farsi ammazzare adesso. Poteva andare peggio, disse a un tratto la figlia di Atena. Davvero? Percy non immaginava come, ma si sforzò di assumere un tono ottimista. Lei gli si accoccolò accanto. I suoi capelli odoravano di fumo e chiudendo gli occhi, Percy poteva quasi immaginare di trovarsi al campo mezzo sangue. Potevamo cadere nel fiume Lete, continuò Annabeth, e perdere tutti i nostri ricordi. A Percy si accapponò la pelle. Di amnesie ne aveva avute abbastanza. Era passato soltanto un mese da quando Hera gli aveva cancellato la memoria per spedirlo in mezzo ai semidei romani. Lui era piombato al campo Giove, senza avere idea di quali fossero le sue origini. Pochi anni prima aveva combattuto contro un titano sulle rive del Lete, vicino al palazzo di Ade. Aveva inondato il titano con l'acqua del fiume, facendo tabula rasa di tutti i suoi ricordi. «Sì, il Lete», borbottò. «Decisamente non il mio fiume preferito». «Come si chiamava quel titano?» chiese Annabeth. «Giapeto. Pare che significasse il perforatore o qualcosa del genere». «No, mi riferivo al nome che gli hai dato tu dopo che ha perso la memoria. Steve? Bob?» Annabeth riuscì a fare una debole risata. «Bob il titano!» Percy aveva le labbra così secche che sorridere gli faceva male. Si chiese che fine avesse fatto Giove dopo che lo aveva lasciato nel palazzo di Ade. Chissà se era ancora felice e contento di essere Bob, il titano sprovveduto e simpatico. Percy si augurava di sì, ma gli inferi sembravano tirare fuori il peggio da chiunque, mostri, eroi o dei. Scrutò le pianure di cenere. Gli altri titani in teoria si trovavano nel tartaro, forse in catene, forse in giro senza meta, oppure nascosti in uno di quegli anfratti bui. Percy e i suoi alleati avevano distrutto il titano peggiore, Crono, ma perfino i suoi resti potevano trovarsi laggiù da qualche parte. Milioni di particelle infuriate di titano che fluttuavano fra quelle nuvole sanguigne o alleggiavano nella nebbia scura. Percy decise di non pensarci. Baciò Annabeth sulla fronte. «Dobbiamo continuare. Vuoi ancora un po' da bere?» «Ah! Passo!» Si rimisero in piedi, barcollando un poco. Il resto della scogliera sembrava una discesa impossibile, una serie di disporgenze appena accennate sulla parete rocciosa, ma proseguirono lo stesso. Il corpo di Percy avanzava per inerzia, aveva le dita irrigidite dai crampi, sentiva le caviglie scoppiare, tremava dalla fame. Si chiese se prima o poi sarebbero morti di fame, o se quell'acqua infuocata avrebbe continuato a tenerli in vita. Ripensò al supplizio di Tantalo, bloccato per l'eternità in una pozza d'acqua ai piedi di un albero da frutto, senza poterne bere né mangiare. Cavoli, erano anni che non ripensava Tantalo. Quel tizio improponibile aveva ricevuto un brevissimo permesso d'uscita per fungere da direttore del campo mezzosangue. Probabilmente era tornato nei campi della pena. Percy non aveva mai provato compassione per lui, ma cominciò a farlo. Adesso riusciva a immaginare come fosse vivere affamati per l'eternità senza avere mai la possibilità di mangiare. Continua a scendere, si disse. Cheeseburger, replicò il suo stomaco. Chiudi il becco, pensò. Con le patatine, gemette lo stomaco. Un milione di anni dopo, con una decina di vesciche nuove sulla pianta dei piedi, Percy e Annabeth raggiunsero il fondo. Crollarono a terra. Davanti a loro si estendevano chilometri di desolazione, che brulicavano di larve mostruose e grossi alberi simili a peli di insetto. Alla loro destra il flegetonte si diramava in torrenti infuocati che solcavano la pianura, allargandosi in un delta di fumo e fiamme. A nord, lungo il corso principale del fiume, il terreno era crivellato di grotte. Qua e là, guglie di roccia si stagliavano verso l'alto come punti esclamativi. Al tatto, il terreno era liscio e caldo, una sensazione allarmante. Percy cercò di raccoglierne una manciata, ma poi si rese conto che sotto un leggero strato di terra e detriti, il suolo era un'unica immensa membrana, simile a pelle. Ma avvertì l'impulso di vomitare, ma riuscì a trattenersi. La sola cosa che aveva nello stomaco era il fuoco. Non ne parlò con Annabeth, ma cominciò a sentirsi osservato, da qualcuno o qualcosa, di grosso e malvagio. Non riusciva a inquadrarlo, perché quella presenza era tutto intorno. Osservare non era neanche la parola giusta, implicava l'esistenza di occhi, mentre quella cosa era semplicemente consapevole di loro. Le creste rocciose che li sovrastavano non somigliavano più tanto a gradini, quanto a file di denti robusti. Le guglie di roccia sembravano costole spezzate, e se il terreno era una pelle membranosa... Percy si costrinse a scacciare questi pensieri. Quel posto lo stava mandando fuori di testa, tutto qui. Annabeth si alzò, pulendosi la fuligine dal viso. Scruttò le tenebre all'orizzonte. Saremo totalmente esposti, attraversando la pianura. A un centinaio di metri di distanza, di fronte a loro, una vescica esplose, e un mostro si fece largo con gli artigli. Un telchino luccicante, con la pelliccia lucida, il corpo da foca e gli arti umani striminziti. Riuscì a strisciare soltanto per qualche metro, prima che qualcosa sfrecciasse come un missile fuori da una grotta vicina, muovendosi così alla svelta, che Percy fece solo in tempo a registrare una testa da rettile. Il mostro abbrancò con gli artigli il telchino pigolante, e lo trascinò con sé nelle tenebre. Era appena rinato nel tartaro, e due secondi dopo era già stato mangiato. Percy si chiese se quello stesso telchino sarebbe spuntato fuori da qualche altra parte, e quanto tempo ci avrebbe impiegato a riformarsi. Deglutì, con il saporaccio dell'acqua infuocata in bocca. Oh sì, sarà divertente. Annabeth lo aiutò a rialzarsi. Percy lanciò un'ultima occhiata alle scogliere, ma tornare indietro era fuori discussione. Avrebbe dato mille dracme d'oro per avere Frank lì con loro. Il buon vecchio Frank, che sembrava spuntare sempre fuori al momento giusto, e avrebbe potuto trasformarsi in un aquilo o in un drago e volare sopra quello stupido deserto. Si incamminarono, cercando di evitare gli ingressi delle grotte e tenendosi vicini alla riva del fiume. Avevano appena costeggiato una guglia di roccia, quando un guizzo attirò lo sguardo di Percy. Qualcosa era sfrecciato fra i massi alla loro destra. Un mostro che li seguiva? O forse solo un essere malvagio qualsiasi, diretto alle porte della morte. All'improvviso ricordò il motivo per cui avevano scelto quel tragitto e si fermò di colpo. Le impuse? Afferrò Annabeth per un braccio. Dove sono? La figlia di Atena si guardò intorno, girando su se stessa con gli occhi accesi di preoccupazione. Forse le demoni erano state catturate dal rettile della grotta di prima? Se fossero state ancora davanti a loro, avrebbero dovuto vederle da qualche parte, in quell'immensa pianura. A meno che non si nascondessero dietro quelle... Improvvisamente le impuse emersero dalle rocce. Erano in cinque e formavano un anello. Una trappola perfetta. Kelly avanzò zoppicando. I capelli infuocati le ardevano sulle spalle come una cascata del flegetonte in miniatura. La divisa da cheerleader, già brandelli, era cosparsa di macchie color ruggine e Percy era piuttosto sicuro che non fosse ketchup. Li fissò con occhi rossi e luccicanti e scoprì le fauci. Percy Jackson, che meraviglia! Esclamò. Non devo nemmeno tornare nel mondo mortale per distruggerti!